Una sottosegretaria della Lega che si chiama... No, dei 5 Stelle. Pardon, della 5 Stelle, no, della Lega sarebbe stato clamoroso. Si ha detto che io avrei chiesto di vedere i video, ma... No, che lei parlando con il suo avvocato, Giulia Bongiorno, che è anche l'avvocato della ragazza presunta vittima dello stupro, lei avrebbe avuto dei particolari in più, avrebbe visto il video. Lei ne ha parlato con Giulia Bongiorno, ha avuto delle... Ma figurati te se è col lavoro che io ho da fare, vado a intrufolarmi nei processi altrui guardando i video del figlio di Grillo, solo pensarlo è una roba da matti che questa signora faccia il sottosegretario alla giustizia e quindi che da questa signora che pensa che io vada a sbirciare i video dal buco della serratura... La querela? Assolutamente, assolutamente. Ripeto, stiamo parlando del futuro dei nostri figli, 200 miliardi di case di riposo, di assunzioni di medici, di infermieri, secondo lei io ho tempo e voglia, già ho il mio processo e rischio la galera di mio... Quindi noi possiamo dire con certezza che Matteo Savini non ha visto il video e Giulia Bongiorno non gli ha detto nessun particolare segreto del processo. Ma ti pare, né io gliel'ho chiesto né per quanto è seria Giulia Bongiorno me l'avrebbe mai ascoltato o prospettato. Senta, ma lei...